il tuo evento sta per iniziare 3 2 1 il nostro evento dovrebbe essere iniziato buonasera a tutti quanti buonasera ai presenti buonasera a quelli che si sono collegati un minutino prima che abbiamo visto che abbiamo scambiato due parole in chat e quindi aspettate che spengo un po l'audio e quindi saluto tiziano fagnani saluto paolo cavalcanti guarda che bellissimo microfono qua in primo piano questa sera condensatore si dovrebbe sentire benissimo saluto sciarma saluto giuseppe saluto salvatore che ha già fatto le prime domande e saluto raffaello ivaldi fatemi sapere come al solito prima di iniziare se si sente bene se si vede bene questa sera stiamo utilizzando la fibra fibra internet che molto probabilmente metto già le mani avanti darà qualche problemino ma abbiamo subito pronta anche la dsl di backup per cui nessuna paura argomento di questa sera buonasera a tutti quanti buonasera anche mirko fatemi sapere se si sente bene un piccolo feedback questa sera l'argomento lo dico ogni volta ma questa sera ci credo più delle altre volte e di particolare interesse prima di fare l'introduzione a questo a questo argomento facciamo il nostro dovere per cui questo episodio di best prato live di youtube è sponsorizzato da terraplast terraplast progetta e costruisce vasi in resine plastica da esterno caratterizzati dal tipico stile ed eleganza italiana i vasi terraplast li trovi nei migliori garden center d'italia ed ovviamente anche in best prato utilizza il codice sconto trp 18 per acquistare il tuo vaso in terraplast nel link che vedi in sovraimpressione mi sento un po' mastrotta quando faccio queste cose ma in realtà vi assicuro che questi vasi non perché sono in best prato ma sono veramente molto belli sono vasi di un'azienda leader italiana e sono talmente belli che li abbiamo in best prato e che personalmente ho anche deciso di utilizzarli a casa mia quindi insomma sì facciamo la pubblicità dei prodotti ma facciamo assolutamente delle pubblicità che cercano di essere tanto sono dichiarate ma il più possibile valida bando le ciance torniamo noi perché l'argomento di questa sera intanto saluto francesco giorgio gatto verde anna maria da bari con nickname gatto verde si vede bene con un leggero ritardo del video probabilmente c'è un piccolo di lei speriamo che si metta a posto allora 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 l'argomento di questa sera è un argomento di particolare interesse ed è un argomento nel frattempo è arrivato anche ciao ciao il viti è arrivato il viti nostro affezionato dicevo è un argomento probabilmente tra i più complessi da affrontare perché dico questo perché se da una parte la scelta delle sementi è un elemento oserei dire il più importante nel momento in cui andiamo a rigenerare un prato è anche un argomento di particolare difficoltà nel nello scorporare perché lo vedremo i fattori che vanno ad influenzare la scelta della migliore semente per eseguire la rigenerazione di un fratto danneggiato sono tanti e fanno parte ciascuno di un gruppo di elementi i quali presi uno per uno hanno un'importanza di un certo tipo e messi assieme si fa un po' di difficoltà perché le esigenze di una semente cioè le caratteristiche alle quali deve corrispondere una semente da rigenerazione in realtà sono più complesse di quello che è ad esempio fare una scelta di una semente per fare un prato nuovo il perché lo capiremo lo vedremo stiamo lavorando su un prato che già esiste stiamo lavorando su un prato che ha problemi quindi ha dichiarato i suoi problemi e se questo facilita da una parte dall'altra parte lo vedremo dopo ci complica la scelta e questa è la prima premessa che volevo fare la seconda premessa riguarda l'importanza in sé per sé della scelta della corretta semente faccio un semplice esempio noi potremmo fare la sella risemina regola d'arte seguendo la famosa guida di risemina presente nel nostro blog ad esempio seguendo passo passo tutte le operazioni questa sera magari faremo un accenno ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita nella live scorsa abbiamo spiegato come si fa una risemina ben fatta ma abbiamo anche detto al termine della live scorsa che tutto questo tutte queste operazioni si sgretolano nel momento in cui andiamo a fare l'errore fondamentale l'errore principale l'errore sulla quale si basa tutto quanto ovvero la semente noi potremmo fare una semina perfetta potremmo utilizzare i migliori concimi fare la preparazione del terreno tra le migliori ma se poi la semente in quel luogo lì non è adatta e non è adatta nell'istante in cui viene messa per una serie di ragioni che tra un po' ci arriviamo oppure dopo un mesetto per altre ragioni tra cui arriviamo cosa succederà che da lì a poco da lì a poche settimane dopo la risemina scopriremo che abbiamo buttato via i soldi abbiamo buttato via il tempo e quel che è peggio non avremo più tempo di eseguire un'ulteriore risemina perché saremo vicini all'inverno e per cui la frustrazione sotto natale sarà massima quindi è bene studiare come si esegue una risemina ben fatta è bene studiare capire quali concimi utilizzare quale tecniche come preparare il terreno ma più di tutto è importante non sbagliare la semente da utilizzare la complessità di questo tema nel frattempo lasciatemi salutare altre persone che sono arrivate saluto armando saluto francesco tra fibre ci si intende giuseppe simone carmelo aldo siamo moltissimi questa sera mi fa piacere perché sarà molto utile vi invito a rimanere fino alla fine perché poi nella seconda parte oltre a rispondere alle vostre domande vi darò qualche piccolo suggerimento per ottenere qualche piccolo trucco del mestiere per ottenere il massimo dalle risemini una volta che si è capita qual è la semente giusta dicevo che particolarmente frustrante sbagliare la semente e questo tema della scelta delle sementi è talmente complesso che noi oggi spiegheremo daremo andremo anche nel dettaglio daremo delle indicazioni ma il mio suggerimento suggerimento di prestato è quello di evitare un po il fai da te nel dubbio lasciate perdere fermatevi non fate nessuna scelta e rivolgetevi a un professionista siamo qua a disposizione ci sono io ci sono i miei colleghi ci sono i produttori ci sono i tecnici della botosma ci sono anche i tecnici delle aziende concorrenti abbiamo sempre detto che facciamo cultura generale non siamo qui a dire che noi siamo i più bravi non siamo qui a dire che botossa le migliori sementi siamo qui per dare suggerimenti giusti per dare suggerimenti concreti la scelta di una semente è sempre complessa ed è per questo motivo che farsi aiutare da un professionista è utile ma molto spesso non è facile anche noi riceviamo vi assicuro decine decine centinaia talvolta di email di richieste di consiglio e tante volte non riusciamo a starci dietro per questo motivo cosa abbiamo fatto abbiamo creato un servizio un po più automatizzato che ci permette di facilitare noi lo chiamiamo il metodo bestrato e dopo ci arriviamo ve lo spiegheremo in alcune in quelle che sono le sue regole fondamentali ma all'interno di www.bestprato.com andate nella home page c'è un pulsante giallo sulla destra con scritto configuratore per la scelta delle sementi andate lì compilate la form e i tecnici vi aiuteranno e se è per noi facile aiutare dopo la compilazione di questo form perché diciamo facciamo un po di scrematura ovvero andiamo già a pulire lo scenario dagli elementi che tra un attimo arriviamo volevo fare questa lunga premessa perché adesso andiamo nella sostanza ma non vorrei gasarvi troppo nel senso il fai da te va bene fino a un certo punto magari sperimentate magari fatevi l'idea ovviamente tutta questa sera tutta questa diretta vi darà degli elementi spero nuovi spero utili per alcuni saranno sicuramente in più perché facciamo dei discorsi generali e so che tra di voi ci sono delle persone molto esperte detto questo andiamo entriamo nel tema lasciatemi di nuovo inforcare per l'ultima volta gli occhiali per salutare ovviamente anche aldo e christian pelican che addirittura si collega dalla croazia terra meravigliosa a pochi a poche decine di chilometri cento chilometri cento e cinquanta chilometri da qua c'è il vostro bellissimo mare christian veramente io prima di dedicarmi anima e corpo a questo c'è una piccola divagazione a questo stupendo mestiere che la responsabilità tecnica di besprato ero appassionatissimo di vela mi piaceva tantissimo andare in barca vela facevo le gare le regate si con le barchette quelle piccole e anche con le barchette un po più grandi con quelle che si va via da soli e quando venivo a fare le regate nella vostra regione era uno spettacolo uno spettacolo ho fatto delle bellissime gare in inverno tra natale capodanno nell'isola di cavare christian una bellissima terra basta bando le ciance saluto anche alessio e ramos ed entriamo nel vivo nel cuore di questo tema allora lo scopo principale della scelta di una corretta semente da risemina non è solo quello di recuperare il danneggiamento seguitemi bene in questo concetto ma è quello di eviti recuperare del genere danneggiamento assolutamente sì ma di evitare che il danneggiamento poi si ripresenti cioè il recupero del tratto dobbiamo cercare di farlo in una maniera che diventa definitiva questo è il passaggio che molte persone dimenticano si tende a fare una risemina per andare recuperare il danneggiamento di un prato il più velocemente possibile dimenticando di analizzare bene quelle che sono le cause per poi scegliere una semente che vada a sopperire non al diradamento in sé per sé ma le cause che hanno portato al diradamento e questo è il primo step il primo passo da fare face per fare un passo avanti cosa dobbiamo fare dobbiamo iniziare a dare a ragionare e qua vi evidenzierò quattro aree di riferimento una due tre quattro le quali portano ne abbiamo già parlato la volta scorsa nei quali portano questi fantomatici diradamenti o questi danneggiamenti ovvero questa necessità poi di andare a rigenerare il prato la stiamo prendendo un po la lontana ma è fondamentale per scegliere le migliori sementi è impossibile scegliere la giusta semente senza affrontare questo schema quattro primo elemento di riflessione riflettiamo sul danno noi abbiamo un diradamento abbiamo un danneggiamento del prato dobbiamo capire analizzare quelle che sono i fattori che hanno causato quel tipo di danno potrebbe essere un danno da malattie fungine potrebbe essere un danno da alto calpestio potrebbe essere un danno da scarsa irrigazione potrebbe essere un danno da presenza di colle otteri di larve che hanno rovinato il prato potrebbe essere anche un danno derivante semplicemente da una semina fatta troppo tardiva nel periodo primaverile già qui possiamo potremmo trarre dei prime indicazioni ma teniamoli buono questa riflessione attorno ai danni analizziamo cerchiamo di tenere a mente è successo un problema devo risseminare il prato perché sto risseminando il prato qual è stata la causa di quella risemina di questa risemina perché devo andare a mettere queste sementi ok primo elemento secondo elemento 1 2 passiamo di qua secondo elemento che dobbiamo assolutamente tenere a mente e fare una riflessione che potrebbe essere anche collegata ai danni collegata al clima ok per clima intendiamo sicuramente le medie climatiche quindi quanto caldo fa di giorno in estate quanto caldo fa di giorno in inverno quanto freddo fa di notte in inverno e quanto freddo fa di notte in estate e questo è un primo parametro climatico però probabilmente quello che ci serve di più e andare a riflettere sull'esposizione solare delle parti che hanno subito dei danni perché questo ci può ci darà delle indicazioni utilissime nella scelta della corretta semente facciamo un ulteriore passo avanti dobbiamo tenere a mente i danni dobbiamo tenere a mente l'esposizione solare e la tensione climatica del luogo dove dobbiamo andare a risseminare dobbiamo tenere in considerazione ci spostiamo il quarto elemento la colorazione del prato esistente a differenza di una semina nuova abbiamo una situazione esistente che ci va a vincolare un po' se abbiamo una semente molto scura dovremmo porre particolare attenzione perché non tutte le sementi da risemina sono scure poi lo potremmo mettere in relazione al danno all'esposizione solare e ci arriviamo dopo questo è il terzo elemento infine l'ultimo elemento in realtà ce ne sono degli altri ma oggi stiamo un po' semplificando questo è lo schema bestrato copyright bestrato il quarto elemento da tenere a mente questi quattro elementi poi bisognerà comporli nella giusta maniera tutti e quattro è la competizione del prato esistente questo è un elemento una sfera di influenza sulla scelta molto 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 tre volte molto importante perché a differenza delle semine dove andiamo a fare una rigenerazione c'è un prato e questo prato se da una parte il terzo elemento definisce un range di colori che noi dobbiamo utilizzare nelle sementi da risemina e anche di tessitura dall'altra parte il prato esistente in determinate situazioni crea una competizione con la nuova erba che dovrà nascere lo vedremo tra un attimo ovvero il prato esistente potrebbe influire in maniera significativa la crescita l'efficacia di una risemina utilizzando delle sementi non idonee perché il prato esistente se in determinate condizioni potrebbe andare a creare competizione di luce di suolo e di nutrimenti e ci arriviamo fra un attimo chiaro questo schema 4 ovviamente adesso non so se vi sta nascendo un po l'ansia di queste cose perché effettivamente riuscire a tenere a mente tutte quante le quattro cose poniamo ad esempio che dobbiamo che ne so abbiamo un danneggiamento che deriva da una malattia funginea che si è sviluppata in particolare in una zona non troppo calda ma molto esposta del sole in un prato fondamentalmente scuro che però la malattia fungina ha creato un diradamento non molto ampio per cui nelle zone che dobbiamo andare a riseminare ci sarà anche competizione ok ecco che con questo schema conoscendo le caratteristiche specifiche e adesso ovviamente arriviamo al nocciolo al cuore di questa riflessione tenendo a mente questo schema che è semplificato ci permetterà poi di andare a scegliere all'interno delle sementi quali utilizzare e qui mi fermo un attimino infarco di nuovo gli occhiali vedo se tutto a posto stanno arrivando tantissime domande saluto pippo calogero settembrino franci craccavalle mittelfrest e giuseppe che state già facendo le prime domande scrivete pure le domande perché adesso entriamo proprio nel cuore faccio un ulteriore alleggerisco un attimino il tema in realtà non lo sto per nulla alleggerendo perché ogni volta che parlo mi sembra di mettervi ancora più in difficoltà mi perdonerete su questo ma l'equilibrio e la bellezza anche di questa passione che abbiamo la passione del prato la passione del giardino richiede sotto intende che affrontiamo le cose un po diversamente da dalle comuni persone perché noi vogliamo una prestazione del tappeto terboso vogliamo stiamo cercando questo a aumentare la complessità del tutto e per certi aspetti a complicare la vostra il vostro approccio in realtà il fatto volevo dire che in realtà in commercio non ci siano delle varietà specifiche di sementi ma dei mix di sementi tutti i produttori in realtà non vendono una semente preparato quella che noi chiamiamo semente per trato è un mix di sementi basati su loietti festucche aroniacee festucche fini e poa pratensis stiamo parlando di questo tipo poi ovviamente ci sono le agrosti di stonifere che vengono vendute in purezza e le macroterme che però non è oggetto della riflessione di questa serie quindi tutto il tema delle graminie del sinodactilion del pennissettum clandestinum del paspalum eccetera della zoisi eccetera 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 dicevo non dovremmo andare a scegliere delle semente in purezza perché da questo punto di vista i produttori ci facilitano cioè mettono al loro catalogo una serie di miscugli che però sono tra di loro molto differenziati e solo una perfetta conoscenza del miscuglio permette poi la scelta del miscuglio ma come possiamo fare noi che non magari ci muoviamo muoviamo i primi passi nel tema del della risemina a scegliere la semente giusta ed ecco che ci viene in aiuto il famosissimo metodo best prato il metodo best prato altro che non è che il metodo che noi utilizziamo al nostro interno non è niente di rivoluzionario non è niente di sconosciuto è solamente uno schema un approccio mentale che ci permette facilmente di andare a individuare una serie di priorità basate sulle regole che poi ci portano alla scelta della semente andiamo via veloci perché sono curiosissimo poi di raggiungere le vostre domande inoltre vi dico che tra quando finirò e la risposta delle vostre domande vi darò anche un grande annuncio spero di farlo tra dieci minuti poco dopo nelle nove e mezza un grande grande annuncio quindi rimanete assolutamente lì allora entriamo nel metodo best prato per scegliere le migliori sementi se è basato su cinque regole la prima regola l'abbiamo chiamata proprio guardate mi sono preso degli appunti perché era bella la riflessione che ho fatto oggi con i miei cari colleghi abbiamo chiamata la chiamiamo la regola del poco spazio ok cosa vuol dire la regola del poco spazio la prima riflessione che facciamo è quella di andare a capire quanta superficie danneggiata quanto spazio avrà la nostra risemmina la regola del poco spazio ovviamente è la regola al che risponde ad un prato che è stato poco danneggiato un prato il cui diradamento non è a superficie molto ampia ecco che in questa situazione una semplificazione della scelta delle sementi ci porta a dire che dobbiamo assolutamente scegliere una semente a rapidissima germinazione e a rapida crescita questo nel caso di poco spazio presente è fondamentale perché se vi ricordate il quarto elemento che dicevamo se non utilizziamo in condizioni di poco spazio una semente molto performante una tipologia scusate di erba molto performante avremo immediatamente la competizione del prato esistente che nel frattempo che la nuova semente germina cresce e magari è lenta nella crescita quella vecchia crescerà molto prima si svilupperà andrà a competere con la luce e queste l'erba nuova senza la luce solare non esegue la fotosintesi corotiniana sarà immancabilmente deperirà tra l'altro subirà la competizione dello spazio perché l'erba nuova l'erba vecchia scusate si allarghe di nutrimenti perché l'erba vecchia ha anche una superficie radicale molto ampia quando gli spazi sono limitati è quasi automatico andare a scegliere dei mix di sementi che hanno un altissimo percentuale di loietto il loietto perenne è quella varietà di sementi da prato a rapida germinazione e soprattutto a rapido accrescimento è una regola che difficilmente può essere modificata è molto complicato andare a seminare ad esempio delle festuche rondinacee quando i diradamenti non sono molto ampi la festuca rondinacea subisce molto la competizione perché è lenta nel crescere ed è lenta nella germinazione e quindi il tempo che impiega ad esempio a raggiungere i 6 centimetri nel frattempo l'erba esistente avrà raggiunto ai voglia molto molta più altezza e quindi purtroppo per fortuna vedetela come volete la regola del poco spazio ci impone di scegliere un mix basato su loietti nel momento in cui basato in maniera preponderante su loietti perché non deve essere necessariamente cento per cento di loietto il miscuglio perfetto per quella situazione poi entrano in in essere le altre cinque regole passiamo velocemente alla seconda regola se la prima regola era del poco spazio la seconda regola è la regola del tanto spazio cosa vuol dire la regola del tanto spazio e l'applicazione nel momento in cui noi al posto di avere poco spazio ci troviamo in una condizione di vasto danneggiamento ahimè purtroppo ecco che le possibilità di scelta dei miscugli si ampliano notevolmente avremo una superficie che potremo trattare quasi come un prato nuovo e potremo andare a ragionare direttamente su quello che è la motivazione che ha creato quel danno mentre nella regola del poco spazio la motivazione che ha creato del danno è secondaria rispetto alla scelta di un loietto nella regola del tanto spazio in realtà siamo liberi siamo liberi ad esempio di dire ok abbiamo avuto un problema di malattie fungine che ci hanno sterminato un'ampia zona ecco che lì potremmo andare a scegliere delle varietà endofizzate delle varietà particolarmente resistenti e si sa che le specie più resistenti alle malattie fungine sono le festuche rundinacee quindi se quella zona sarà una zona al sole altra sfera di cui abbiamo parlato prima e che tra un po ci arriviamo perché è fondamentalmente la terza regola potremmo andare a scegliere quel tipo di semente se invece abbiamo poco spazio e quel poco spazio quel quel danneggiamento da poco spazio è stato realizzato è stato creato da delle malattie fungine non particolarmente invasive lì non non potremmo andare a scegliere una festuca rundinacea o quantomeno dovremmo porre particolare attenzione a scegliere una festuca rundinacea sceglieremo un loietto magari scegliendo dei loietti che hanno dei benchmark delle prestazioni relativamente endofizzati quindi con la capacità interna di rispondere di contrastare con delle fitotossine alle malattie fungine e poi ovviamente il danno da malattia fungine in quel caso lì lo dovremmo dovremmo proteggere il prato siccome non possiamo utilizzare della festuca rundinacea attraverso delle pratiche agronomiche di cui ne abbiamo parlato tantissimo quest'estate abbiamo fatto video abbiamo fatto approfondimenti passiamo alla terza regola vediamo è tutto che fin qua ticino ben fatto ok stanno arrivando le domande tra un attimo ci arriviamo per qualche minuto c'è il grande annuncio quindi devo assolutamente spiegarvi velocemente le altre tre regole la terza regola e la regola dell'ombra ok molto semplice poco spazio sì no tanto spazio libertà ora la presenza o meno di una zona d'ombra cioè se il danneggiamento è avvenuto in una zona d'ombra ecco che le nostre possibilità di intervento di scelta del miscuglio sono particolarmente restringenti o si vada diciamolo bene quando si parla di prato in ombra non si intende un prato che riceve 4 5 ore di di sole al giorno quello anzi quello probabilmente è un prato per una insolazione perfetta magari lì il loietto faticherà ma la festuca rudinacea vivrà benissimo ma anche i loietti migliori loietti tollerano un po' d'ombra insomma 4 5 ore di luce ai voglia riesce a fare una buona fotosintesi corofiniana no stiamo parlando la regola dell'ombra dice laddove un prato riceve meno di due o tre ore di luce ecco che qualsiasi semente sia da primo inerbimento che semente da risemina deve essere composta da festucche fini da festucche rubre questa è una regola la quale non ci possiamo non ci possiamo non possiamo scappare cioè qualsiasi sia il danno che noi abbiamo avuto lì se dobbiamo riseminare lì in una zona che riceve solo due ore un'ora di luce se noi andiamo a mettere dell'oietto ciao andiamo a mettere della festuca prima o poi è destinata comunque a indebolirsi assottigliarsi diradarsi ecco che questa regola va tenuta a mente ed è molto importante ed era l'elemento climatico numero due che dicevamo prima no in quello schema andiamo infine alla quarta regola e questa è la regola abbiamo chiamata la regola delle malattie cosa vuol dire vuol dire che se il nostro prato andiamo noi dobbiamo andare a rigenerarlo lo rigeneriamo perché in maniera costante subisce l'attacco di malattie fungine le cause sono due o stiamo utilizzando delle pratiche agronomiche completamente sbagliate ovvero lasciamo troppo feltro lasciamo e irrighiamo male e allora la dovremo andare a intervenire altrimenti la regola delle malattie ci dice guarda che lì probabilmente devi utilizzare delle specie particolarmente resistenti quindi punto primo composte da varietà endofizzate spiegato prima che hanno al loro interno cioè una capacità intrinseca di rispondere alle malattie fungine e poi che nei benchmark nelle classifiche prestazionali di resistenza alle malattie fungine abbia dei valori elevati guardate che ci sono loietti festuca e rundinacee festuca e rubre che hanno delle prestazioni enormemente differenti per scegliere nel dettaglio ci sono delle festuca e rundinacee che sono incredibilmente resistenti alle malattie fungine stiamo parlando ad esempio della varietà festuca e rundinacee inferno presente nel royal blue plus della bottos anche nel royal blue anche nel royal park molto molto resistenti e poi ci sono delle festuca e rundinacee di diverso tipo magari di provenienza non americano europee ad esempio quelle contenute nel forteprato ad esempio che hanno una tolleranza alle malattie meno un'incapacità di contrastare le malattie inferiore e qui la scelta inizia a diventare complicata perché per sapere su una varietà contenuta all'interno di un miscuglio e prestazioni contro le malattie bisogna essere si dice molto schillati cioè bisogna sapere molto le cose bisogna avere una conoscenza approfondita per questo motivo torniamo a bomba dicendo sempre chiedete consiglio di un professionista utilizzate la consulenza di dr. Green di Besprato chiedete ai produttori eccetera 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 veniamo alla quinta regola che è la regola del colore abbiamo detto prima c'era la sfera di riferimento e la quarta sfera di riferimento e quando diciamo la regola del colore la regola del colore dice quando bisogna uniformare un prato fatto a chiazze tendenzialmente bisognerebbe scurirlo questo perché prestazionalmente poi le varietà scure in determinate situazioni sono anche quelle più prestazionali ed anche perché la colorazione scura è una colorazione generalmente più nobile più elegante ma anche qui c'è un'eccezione la regola del colore dice ok se dobbiamo uniformare un prato si notano di meno cioè si si resta uniformarlo scurendolo schiarendolo è un po' più complicato però c'è un'eccezione purtroppo in questi anni si sta molto diffondendo la poa annua la poa è una graminacea presente nei miscugli più rinomati ma è la poa pratense non la poa annua la poa annua a tutti gli effetti la possiamo considerare quasi un'infestante perché ha una foglia larga perché colore chiarissimo e la riconosciamo perché fa questi ciuffi chiari che ci disturbano tantissimo è una graminacea a tutti gli effetti quindi non possiamo diservarla chimicamente strapparla a mano è complicato perché si si sviluppa molto velocemente ha una capacità di sviluppo incredibile e quindi in taluni casi potremmo ad esempio scegliere di virare di fare una risemina per virare tutto il prato a delle tonalità più scure perché se non possiamo eliminare il problema potremmo ad esempio camuffarlo ecco che queste sono le cinque regole basi abbiamo messo una regola che è una regola molto importante che è la sesta regola del metodo best prato la mettiamo un po' fra parentesi perché riguarda quanto tempo uno vuole dedicare al prato cioè la regola della manutenzione la regola della manutenzione dice che ovviamente noi non possiamo andare a scegliere delle sementi quindi se noi vogliamo dedicare al prato poco tempo dobbiamo scegliere delle sementi che crescono poco che hanno poca necessità di concime che hanno poche necessità di sfalci che resistono senza troppe cure agronomiche ma purtroppo il paradiso, l'Eden non esiste quindi la regola della manutenzione noi la mettiamo sempre fra parentesi ovvero chiediamo quanto tempo sei disposto a dedicare al prato? il meno possibile è molto spesso la risposta e questo ci mette un po' in difficoltà perché dedicare il meno tempo possibile recuperare un prato danneggiamento da malattie fungine in una zona poco diradata ed esposta al sole con francesismo sono cazzi cioè è impossibile quindi è una regola che teniamo lì in parte bene, ho concluso un po' l'esposizione teorica di tutto quanto e quindi vengo molto volentieri a tutte le vostre domande e ci arriviamo adesso sono le 9 e 35 minuti 36 minuti prima di arrivare alle vostre domande vi faccio un annuncio il grande annuncio che volevo farvi risponderò alle vostre domande vi invito a scriverle e dopodiché concluderò con tre piccoli suggerimenti pratici tre piccoli trucchi mettiamo lì per poi trarre il massimo dalla risemina dalla scelta delle sementi una volta che abbiamo fatto la sementi ovviamente vi ricordo ancora una volta questo si parla di teoria poi se avete bisogno di aiuto email drgreenchiocciolabesprato.com home page www.besprato.com scorrete un po' la pagina sulla destra in alto c'è il pulsante arancione e giallo in cui è scritto configuratore compilate lì la form e vi diamo noi i suggerimenti giusti per la scelta della corretta semente per il problema che avete nel prato per la rigenerazione del vostro prato allora veniamo all'annuncio sono stato oggi pomeriggio al telefono per un bel po' di tempo una mezz'oretta addirittura col mio caro amico partner di Besprato ma prima che tecnico validissimo tecnico anche un amico Gianluca Dorni il titolare di un'azienda che si chiama Punta allo zero questo bellissimo nome Punta allo zero è un'azienda che propone che vuole proporre nel mercato del giardinaggio e nello specifico anche della cura manutenzione del tappeto erboso dei prodotti il più possibile per una gestione sostenibile ecocompatibile green etica metteteci il termine che volete a basso impatto ambientale ed è stato grazie a Gianluca che all'interno di Besprato è stato possibile mettere online abbiamo sviluppato assieme in realtà l'ha sviluppato lui ma noi ci abbiamo messo un po' anche del nostro abbiamo dato alcuni suggerimenti insomma abbiamo creato una sinergia abbiamo creato questo terriccio da prato specifico per tappeto erboso un terriccio completamente diverso da tutto quello che c'è nel mondo e sono molto orgoglioso di dire questo perché è un terriccio che non è che non usa torba per quanto riguarda la sostanza organica diciamo anche se non sarebbe corretto chiamare la sostanza organica perché la torba è un materiale comunque finito è un materiale che non è possibile riutilizzare come petrolio come carbone quando finirà la torba non ne avremo più certo ci dicono che ce n'è ancora tanta però insomma quando si dice così si diceva questo anche del petrolio del carbone e di tutto quanto quindi abbiamo sviluppato questo terriccio senza torba però con prestazioni della fibra di legno fibra di cocco e altre cose che sono presenti che vanno a sostituire la torba studiate pensate per lo scopo che devono avere nel prato e oltre questo è presente all'interno di questa una grande quantità di sabbia però anche in questo caso molti di voi lo ignorano è sabbia riciclata vagliata quindi granulometricamente perfetta per il tappeto reposo con una grossa provenienza per quanto possibile di tipo siliceo quindi una sabbia perfetta ma che ha il grandissimo vantaggio di non essere di non essere estratta da cava di non fare consumo di suolo consumo di terreno una volta che viene estratta la sabbia e non è riciclata da lì non potrà più essere estratta perché è estratta una volta finita e questi temi secondo noi nei prossimi anni nei prossimi dieci anni diventeranno sempre più importanti e noi ci spendiamo insieme a Gianluca su questi temi e su Besprato non trovate nessun altro tipo di terreno solo questo qua costa un po' di più? sì ovviamente costa leggermente di più ma siamo riusciti comunque a creare un prodotto di altissima fascia tra l'altro ammendato quindi già con un'attività con una capacità di assorbire attività microbica elevatissima però sentivamo che mancava un qualcosa e quindi l'annuncio è questo abbiamo deciso assieme e già da un po' che ci stiamo lavorando abbiamo deciso di accorciare i tempi per riuscire a mettere nel mercato in forma sperimentale per questa seconda parte dell'autunno credo ci vorranno ancora due o tre settimane e arriverà la sabbia la sabbia da top dressing la sabbia da tappeto erboso la sabbia specificatamente studiata esclusivamente per il tappeto erboso si direte voi ma cosa cosa vuol dire vuol dire molto è vero che la sabbia silicea chi è capace tra di voi di trovarla non è così facile trovarla vivendo una sabbia silicea che non è sabbia silicea e è una sabbia che si trova magari nei negozi edili in questo tipo di cose ma quello di cui noi stiamo parlando è una sabbia completamente diversa punto primo sarà una sabbia per tappeto erboso quindi sarà una sabbia fertilizzata cioè sarà una sabbia sarà un 80-85% di sabbia silicea vagliata e riciclata occhio sabbia silicea riciclata e vagliata granulometria pensata perfettamente per il tappeto erboso provenienza per quanto possibile di origine silicea dico per quanto possibile perché comunque si tratta di una sabbia che è riciclata ma per noi riciclata è importante perché non è estratta ok è una sperimentazione noi confidiamo molto insomma di riuscire a fare dei prodotti nuovi innovativi che vanno a rispondere a delle esigenze di mercato molto specifiche quindi sarà una sabbia da utilizzare per ammendare il terreno cioè per virarlo leggermente un terreno argilloso viene aiutato a diventare un po' più drenante con queste sabbie ma sono sabbie fertilizzate perché il problema della sabbia è che la sabbia comunque è un inerte è puro ok è sabbia è materiale inerte per cui è un materiale che da una parte ha anche difficoltà a fare ritenzione idriche che se è utile nella 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 nell'ammendatura di un prato nella nella modificazione di un prato argilloso nel top dressing ad esempio ad esempio in risemina potrebbe essere una cosa che non va bene e quindi una sabbia fertilizzata cioè con della sostanza organica nobile tra l'altro in questo caso la sostanza organica che sarà presente all'interno di questa sabbia è il non plus ultra cioè non lo dico io è sarà un composto organico di natura esclusivamente vegetale e già anche questa qua è una un'innovazione totale non ci si troverà niente di questo tipo sono gasatissimo nel dirlo un po' perché l'abbiamo pensato un po' perché ci credo veramente è una cosa nuova e dicevo sarà fertilizzata con questo prodotto che è già stato sperimentato con dei risultati incredibili dal punto di vista prestazionale a livello di sostanza organica per il tappetto erboso che si chiama BioVegetal ed è un'azienda credo siciliana o campana adesso non mi ricordo tutto quanto gestito comunque dal nostro caro amico e ne vedremo delle belle stiamo pensando c'è un grandissimo problema ovviamente il problema del trasporto perché la sabbia pesa moltissimo e sarà una sfida probabilmente ovviamente offriremo un pacchetto un bancale di sabbia comprensivo già di trasporto anche perché insomma trasportare una decina di sacchi di sabbia con la propria macchina dall'andare in negozio prenderli e portarli a casa con i pesi che hanno è impegnativo bene questo era l'annuncio delle 9.45 non mi chiedete quando sarà online stiamo lavorando credo ci vorrà ancora qualche settimana però mi pareva giusto dirvi queste cose in anteprima vengo per cui dieci minuti di risposta un quarto d'ora di risposta alle vostre domande che sono tantissime non so come farò e poi vi lascio con tre piccole chicche relativamente proprio a questo tema devo fare anche veloce che vedo che la batteria della telecamera sta finendo quindi chiedo ad Enrica se può mettere intanto in carica una batteria di riserva ok bene allora Salvatore ciao volevo chiederti una cosa il mio amico voleva chiederti una cosa il mio amico il suo giardiniere ha seminato ma prima ha messo del veleno per termi perché dice che i vermidi hanno mangiato il prato Salvatore non mi esprimo probabilmente meglio cambiare giardiniere no dai ragazzi i vermi allora se sono presenti in quantità i lombrichi i vermi sono presenti in una quantità pazzesca vuol dire che probabilmente c'è troppa sostanza organica ma che mangino il prato no creano culicoli tra l'altro aumentano la sostanza organica se c'è una forte presenza di vermi secondo me più che altro è da intervenire rendendo per esempio utilizzando delle sabbie rendendo i terreni un attimino un po' più drenanti e meno ricchi di sostanza organica bene andiamo avanti andiamo alle domande veramente di sostanza Sharma mi chiede il Bottos Natural Green Trasemina ha bisogno di molto spazio vuoto posso usarlo nei piccoli diradamenti della Royal Park che bella domanda Sharma che bella domanda la traduco però per gli amici che non conoscono i prodotti Bottos così generalizziamo un po' il Bottos Natural Green Trasemina fondamentalmente è un mix tipuri di loietti a diversi loietti con prestazioni leggermente diverse l'uno dall'altro è una semente un miscuglio un blend di loietti ad altissima prestazione tra l'altro è conciato quindi oltre che alla rapidità di germinazione associa anche una protezione nelle prime fasi di germinazione molto alta ed in più è conciato con delle micorizze bellissimo questo tema perché mi hai fatto venire in mente che ad esempio potrei dire tantissime cose ma non le dico perché se no sviluppiamo queste dirette di ore 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 poi non va bene non va bene allora la risposta è sì è un loietti sono gli oietti ad alta prestazione elevatissima germinazione micorizzati quindi spinti per ottenere subito un prato molto veloce nei piccoli diradamenti di royal park è perfetto royal park è un mix di loietto e festuca rudinacea se ci sono dei piccoli diradamenti e probabilmente in quegli spazi puoi utilizzare perfettamente il natural green tra semi a livello di colorazione è simile probabilmente il royal park la parte del macista è un po' più chiara quindi fa anche porta anche un beneficio da un punto di vista dell'omogeneità della colorazione Mirko oggi è arrivato l'ordine che ho fatto in besprato con i consigli di semente date da voi è ora di trasseminare punto di domanda direi che il periodo è quello buono Mirko ci sono queste temperature oggi abbiamo acceso il condizionatore adesso è acceso il condizionatore in besprato perché ci sono queste temperature ancora superiore ai 30 gradi e quindi però di notte inizia già a far freschetto quindi probabilmente nel momento in cui le temperature dovessero scendere sotto i 30 gradi ecco che possiamo secondo me adesso è un momento buono probabilmente se utilizziamo delle festuche runinacee non c'è nessun problema se utilizziamo degli oietti probabilmente la crescimento viene un po' rallentato Ramos mi fa intanto saluto Alessio dalla piovosa toscana mi scrive abito in Sicilia che trassemina devo fare guarda Ramos noi generalmente in Sicilia se viene applicata la regola del tanto spazio consigliamo il Royal Park che è un miscuglio della Bottos che ha una percentuale di festuca runinacea inferno molto prestazionale contro però anche una piccola parte di loietto perché magari i radamenti in alcune zone sono piuttosto piccoli Calogero Pippo Settembrimo buona serata io un prato semi ombra che sementi mi consigliate da Bolzano allora Bolzano clima fresco hai già delle sementi da ombra sicuramente dei mix che hanno al proprio interno della festuca rubra festucche fini escludi se il prato ha molta ombra i loietti se ha un mix d'ombra puoi utilizzare anche le festucche runinacee ma se mi scrivi da Bolzano e sei ad esempio a delle altitudini sui 5-600 metri di altitudine ecco che le festucche rubre le festucche runinacee cominciano a soffrire quindi festuca e rubra mixa un loietto loietto magari nelle zone al sole prende le festucche fini nelle zone d'ombre risseminano molto bene ho appena ordinato ci scrive il viti in besprato nove sacchi di terriccio cambio quello di cui abbiamo parlato per rifare da capo il mio nuovo giardino non voglio più sbagliare e vai di arondinacee bravo viti vai così francy carcavalle ciao è la prima volta che ti scrivo è il periodo di gramigna a seme adesso e senza torba la posso mettere no non puoi seminare la gramigna adesso hai poco tempo utile per l'accrescimento del prato la gramigna e generalmente le macroterme a seme si seminano a maggio a fine maggio M fly test non so se l'ho pronunciato giusto ciao Fabio con un prato di poa che comunque dopo scarificazione si regenera naturalmente è comunque necessario tram seminare se non ci sono danni da diradamento guarda dopo scarificazione un po' di rigenerazione andrebbe sempre fatta è vero come dici tu che la poa è stonunifera quindi ha la capacità di strisciare e quindi di andare ad occupare gli spazi liberi diciamo se non ci sono particolarmente danni da diradamento dopo che hai fatto l'areggiatura puoi anche non eseguirla Giuseppe in fatto di larve ricordo di aver utilizzato prodotti biologici come centari a base di un ceppo esclusivo di Bacillus turigigenesis particolarmente efficace sulle larve dei lepidotteri notuidi super tecnico come ormai ci ha abituato Giuseppe ottima soluzione immagino Giuseppe faccelo sapere che hai lavorato in maniera preventiva perché probabilmente per far per arrivare a eliminare un problema di questo tipo di larve già presente e diffuso probabilmente si arriva tardi con questi prodotti facci sapere come hai a che livello sei intervenuto se sei riuscito a bloccare una situazione di larve allo stato embrionale oppure anche in uno stato avanzato l'altro di larve era Bactospeine 32VG un insetticida biologico in granuli idrodispersibili a base di bacillus eccetera varietà custacchi ottimo grazie delle indicazioni sempre molto utile Giuseppe è veramente un super tecnico andiamo avanti Enrico Modolo io faccio la trassemina con lo stesso tipo Royal Golf beh Enrico Royal Golf è un mix di loietti e festucche fini per cui da un punto di vista della trassemina è un ottimo miscuglio ti anticipo che quando si utilizzano questi tipo di miscugli di prestare particolarmente attenzione al dosaggio e tra un attimo vi darò alcune indicazioni sui dosaggi alle washcar detailing detailing io ho usato maciste per un prato un po' rovinato lo uso per riprendere delle zone allora è difficile sai alle utilizzare il maciste perché è un mix fondamentalmente composto dal 90% di festucche per un'unicea se il diradamento se siamo nella situazione anche un po' di loietto se siamo nella situazione di regola di diradamento abbastanza ampio ecco che maciste offre delle ottime performance se il diradamento è solo leggermente accentuato potrebbe faticare mi sta terminando la voce francy come ti posso contattare in privato manda un'email a drgreen chiocciolabestprato punto com giorgio dopo qualche giorno dalla semina c'è stato un diluvio adesso l'erba sta nascendo e una parte sembra nasce sembrano sta nascendo e una no credo no riseminare no attendi 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 il primo taglio quattro settimane cinque settimane francesco quindi avendo un diradamento dell'ordine del 10% essenzialmente per mancata manutenzione un musculio rapida germinazione è la scelta adatta sì la risposta è sì devo riseminare la superficie la mia risposta è anche qui sì generalmente quando si fa una risemina è meglio farla su tutta la superficie un po' per andare perché il mix magari è diverso se invece sai utilizzi lo stesso misculio originale allora in questo caso puoi operare più chirurgicamente mamma mia quante domande cerco di andare più veloce Mirko come cosa posso usare per porre il seme il seme nel terricio per porre a contatto il seme nel terricio senza acquistare il rullo una bombola del gas tolta la valvola e riempita d'acqua Pierpaolo prato a rotoli posato due anni fa con solamente poa e loietto vorremmo introdurre anche la festuca come conviene fare non è facile perché la poa e loietto cavolo sono competitivi no allora taglio basso molto molto basso a rieggiature con scarificazione violentissima semente di festuca rundinacea estremamente prestazionale quindi a rapidissima germinazione uso del terriccio delle micorizze particolare attenzione all'irrigazione che deve essere breve e molto spesso non dobbiamo andare a bagnare le radici della poa e dell'oietto ma dobbiamo semplicemente tenere umido il seme questa può essere una buona strategia Mirko 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 terriccio per tappetti erbosi con presenza di sabbia assolutamente sì Alessandro ciao Fabio perché sostieni di mettere i semi sopra il terriccio e non viceversa con un solo intenso non potrebbero cuocersi no questa Alessandro è un po' ci sono le due scuole di pensiero e non lo nego tenere il seme a cielo aperto è molto utile per la germinazione perché la germinazione viene più rapida lo respone più facilmente al sbeccotamento degli uccelli granivori non si cucinano devi tenere costantemente umido brevi irrigazioni ogni due ore Donatello buonasera Donatello Cagianelli ciao conviene riseminare il prato piuttosto che rifarlo completamente l'erba riseminata risulta essere visibilmente diversa da quella esistente se si utilizza un miscuglio diverso allora se il diradamento è molto molto ampio conviene sempre rifare da zero l'erba riseminata nel caso che il miscuglio che non si conosca il misuglio tendenzialmente è difficile far sì che sia dello stesso tipo per questo motivo generalmente se si opta per la risemina bisogna farla su tutto il prato Raffaello Raffaello e così ci avviamo verso il termine ultime tre domande prato maciste prato festuca ruminacea scusate prato di festuca ruminacea di maciste anche in questo caso posso usare bottos natural green per piccoli diradamenti allora con un prato di festuca ruminacea in un prato di festuca ruminacea puoi utilizzare dell'altra festuca ruminacea a patto che il diradamento sia un po' ampio puoi andare a rintrodurre dell'oglietto ma festuca su festuca un po' si riesce perché la festuca è comunque lenta e fa una competizione non molto potente potreste ad esempio utilizzare un mix di loietto e di festuca come ad esempio è il royal park della Botosch Ale seconda domanda io ho usato maciste per rinnovare il prato mattina ombra pomeriggio sole allora hai un prato che la mattina è in ombra pomeriggio e sole il maciste è una festuca ruminacea con un po' di loietto per rinnovare non è l'optimum però non dovrebbe faticare una volta insediato Christian mi scrive io ho un prato di maciste posso usare tenere assolutamente sì andiamo a dare una nuova quantità di loietto tra l'altro loietto quel 10% di loietto presente all'interno di maciste è proprio il loietto del venere allora siamo raggiunti alle 10 in perfetto orario di chiusura perfetto orario si fa per dire ecco i tre consigli suggerimenti trucchi chiamateli come volete per quelli quali hanno resistito oh bene 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 aspettate che è arrivata la risposta di Angelo di Giuseppe che mi interessa particolarmente sì Fabio gli antilarve indicati sono risultati ottimi in fase di attacco virulento in corso avvenuto due anni fa e successiva prevenzione caso molto interessante ti scriverò subesprato grazie Giuseppe grandissime questi contributi tra l'altro come Giuseppe ci ha fatto notare questo specifico diciamo questa specifico modalità biologica di intervento è una modalità interessantissima contrasto che si basa su prodotti innovativi prodotti più possibili naturali biologici che tra l'altro come ci dice Giuseppe per sua esperienza sono avuto successo in un caso non dico preventivo ma in un caso embrionale di attacco molto virulento bene allora concludiamo con questi tre consigli perché abbiamo parlato di come scegliere le sementi abbiamo dato un po' di indicazioni abbiamo detto di rivolgervi a un esperto la volta scorsa abbiamo parlato di come si esegue una risemina quindi oggi abbiamo completato abbiamo parlato di come si esegue una risemina dell'importanza della realizzatura e di come scegliere le sementi probabilmente abbiamo un po' chiuso il ciclo di quello che è il tema della risemina di tutto quello che è il danneggiamento del prato la risemina eccetera quando si affronta le risemine quindi una volta che avete messo le mani nella vostra giusta semente ecco che vi do questi tre suggerimenti il primo riguarda il dosaggio da utilizzare a meno che non siano delle sementi specificatamente studiate per la risemina che generalmente nella scheda è indicata la quantità da utilizzare in risemina generalmente i dosaggi delle sementi sono relativamente a un dosaggio da utilizzare in una semina normale quindi non in una risemina non in competizione nel caso di competizione bisogna aumentare il dosaggio ad un minimo del 25 30% si può arrivare anche a dei dosaggi superiori del 40 e del 50% questo perché questo è abbastanza chiaro perché molti semi non cadranno specificatamente nel terreno ma cadranno sopra una piantina alcuni semi cadranno molto vicini a una piantina già presente e quindi non avranno assolutamente anche se sono veloci a germinare subiranno la competizione e quindi si tende ad aumentare il dosaggio secondo secondo suggerimento secondo trucco è quello assolutamente di non dimenticarsi mai di eseguire la concimazione fosfatica utilizzando un concime specifico per le risemine perché i concimi specifici da distribuire dopo la distribuzione del seme sono specifici scusate il gioco di parole non a caso cioè hanno sì il fosforo ma hanno la quantità di azoto presente all'interno del concime per non aiutare troppo il prato già esistente dargli un po' di azoto generalmente è tutto a lento rilascio anzi eccessione programmata quindi che non viene diciamo così alterata dall'umidità sono concimi cioè che aiutano molto il prato nuovo e non aiutano troppo il prato esistente condizione necessaria affinché la competizione non si instauri troppo competitiva ok ultimo suggerimento e qua torniamo un po' quasi da capo è quello che noi dobbiamo garantire l'altissima germinazione delle sementi che noi andiamo a dare aumentiamoci il dosaggio ma dobbiamo avere la certezza che quelle sementi che andiamo a posare nel terreno germinano effettivamente da qui scegliere ovviamente dei produttori degli ottimi produttori ma da qui anche l'importanza di scegliere delle sementi fresche sapete benissimo che il tema delle sementi fresche siamo stati criticati un po' su questo perché lo battiamo con un'insistenza alcuni dicono ossessiva e del cavallo di battaglia www.bestrato.com è uno shop che dichiara apertamente lo scrive nelle sue condizioni di vendita che ha solo ed esclusivamente semente fresche con garanzia di ultima produzione germinazione da laboratorio altissima freschezza assoluta per noi è importante è importante perché quando besprato è nato quando siamo entrati nel mercato della vendita delle sementi abbiamo scoperto cose indicibili capita molto spesso che acquistare delle sementi da dei negozi che non applicano in maniera precisa questo discorso delle sementi fresche vi ritrovate ad acquistare delle sementi a settembre adesso che sono in realtà dei fondi di magazzino di marzo che sono in realtà caduta la linea se non ritorna comunque concludiamo vi ringrazio di essere stati con noi vi ricordo l'appuntamento fondamentale domani se riusciamo mettiamo online un video di giorninaggio pratico dedicato al tema proprio della scelta delle sementi mercoledì sempre su questo tema parte la nostra newsletter ed ovviamente domenica prossima una preview e lunedì prossimo un nuovo appuntamento di besprato live non mi dà segni mi dicono qua se mi fate cenno credo che sia caduto tutto quanto mamma mia questa questa dsl rispondo e vi saluto ad andrea che mi chiede supertar va bene anche come concime fosfatico andrea assolutamente no ciao da parte di fabia e da parte di besprato un buon lunedì c'era